Che alleanza vaccinale, altro che vaccino come bene pubblico. Qui nessuno si fida più di nessuno, anzi, guarda in cagnesco il compagno di viaggio. Questo vuol dire Sputnik in russo, primo satellite lanciato in orbita nella storia. Non a caso i russi hanno battezzato così il loro vaccino più famoso, con l'intento di lanciarlo sul mercato mondiale. È già stato autorizzato in 55 paesi, molti dell'America Latina, ma anche Iran, Turchia, Pakistan, Filippine. E ci sono accordi con aziende straniere per la produzione in loco di 700 milioni di dosi all'anno. Sputnik 5 era già pronto lo scorso agosto. Troppo presto, si diceva, ma ai primi di febbraio l'autorevole rivista di medicina Lancet gli ha riconosciuto un'efficacia superiore al 90%. A inizio mese l'Agenzia Europea del Farmaco ha iniziato a valutare i dati, ma ieri il commissario ai vaccini Breton ha detto che l'Europa non ne ha assolutamente bisogno, salvo poi fare una mezza marcia indietro. dipenderà dalle circostanze. Intanto però il leader russo Putin, che si fa vaccinare oggi, aveva colto la palla al balzo. Quali interessi difendono e rappresentano queste persone? Quelli di alcune aziende farmaceutiche o gli interessi dei cittadini europei? Applichiamo allo Sputnik gli stessi standard degli altri vaccini, ma servono altri dati, ha detto poco fa la direttrice generale dell'Agenzia Europea del Farmaco, Cook. Grazie a tutti.